Ci siamo attivati da subito proprio per partecipare a questo progetto innovativo che ha permesso a tante persone anziane di poter essere seguite nel loro spazio, nella loro casa, con attività che esulano un po' da quello che viene propinato loro quotidianamente, anche dai familiari stessi, perché non tutti gli anziani sono persone che sono abbandonate o vivono nella loro casa e hanno piacere anche di avere un po' di vita sociale anche diversa, quindi fare delle attività come per esempio ginnastica dolce, avere un aiuto per le proprie azioni quotidiane è veramente molto importante per loro, quindi l'obiettivo di mantenere in attività, in salute e assistiti soprattutto persone che ancora possono cavarsela da soli è molto importante. Abbiamo creduto in questa cosa e stiamo andando avanti nel corso del tempo proprio perché crediamo. Voi avete stanziato dei fondi, quanto? Sì, da subito abbiamo stanziato 20.000 euro che continuiamo a stanziare proprio perché riteniamo un progetto importante per la comunità. A Verbania ci sono circa 6.000 anziani che hanno più di 70 anni, quindi un numero considerevole. È importante riuscire a raggiungerli finanziando anche perché c'è sicuramente bisogno, nel primo momento c'è stato un finanziamento importante dalla fondazione Cariplo, adesso bisogna andare avanti. Adesso la fondazione comunitaria investe in questo progetto, crede, è una scommessa anche per questo ente, ma un appello deve essere rivolto agli altri comuni perché adesso il progetto ha bisogno di camminare con le proprie gambe. Assolutamente sì, è stato creato un fondo ad hoc che è il fondo social della fondazione comunitaria, quindi invito davvero tutti a partecipare e a donare a questo fondo perché, voglio dire, noi siamo partiti ed è partito tutto il territorio, quindi questa è stata un'azione anche molto importante perché non è stata solo Verbanio o il Verbano, ma Verbanio, tutta la provincia si è data da fare per questo progetto. Bisogna continuare su questa strada, certamente bisogna investire, per cui invito i comuni a contribuire. Grazie.